E' scontro Campidoglio governo sui Deor. Da una parte c'è il ministro delle imprese Adolfo Urso che nel corso della giornata della ristorazione, evento della Federazione Italiana, pubblici esercizi alla Camera, ha rivelato che il governo sta lavorando a una legge che rende strutturale l'espansione di Tavolini e Deor legata al periodo del Covid. Una sanatoria di fatto, insomma, che andrebbe a fissare ad libitum l'attuale proroga il 31 dicembre delle misure che aveva visto gli esercizi allargarsi su staglie e marciapiedi fino al 35% in più rispetto all'era pre-pandemica. Dall'altra parte, in contrapposizione, il Campidoglio che vede nelle parole del ministro il rischio di derubricare a carta straccia il nuovo regolamento comunale presentato a novembre, ma ancora in attesa di nulla osta in Assemblea Capitolina, studiato per dare disciplina a un fenomeno che nella capitale si è tradotto in un autentico assalto agli spazi pubblici più 519% in tre anni, 112.122 metri quadrati occupati contro i 21.609 del periodo pre-Covid, con intere porzioni di città ostaggio di Tavolini e Deor. È assurdo e inaccettabile che il ministro Urso e il governo centrale decidano unilateralmente per le amministrazioni locali la durissima nota firmata da Monica Lucarelli, assessora alle attività produttive che attacca. Si tratta di un evidente segno d'arroganza e disinteresse da parte del governo centrale. Questa mossa è chiaramente dettata da interessi politici e non tiene in considerazione le vere esigenze di residenti e imprenditori locali.